Ed eccolo qui il nostro Dougie, ma come potete vedere decisamente non ci siamo. Questo telefono che doveva essere indistruttibile viene venduto come rugged phone, sono riuscito a distruggerlo, ma aspettate un pochino che vi racconto cosa è successo e per quale motivo ci troviamo adesso in questa circostanza. Sono sostanzialmente rimasto incuriosito da quelle che erano le sue caratteristiche tecniche, le fotocamere, vi andrò a spiegare che una di queste fotocamere oggettivamente mi ha veramente colpito e mi ha sorpreso, si comporta bene, ma purtroppo non è la principale. Il display a 90 Hz, la carica rapida a 33 W, il processore di casa Mediatek, un 8 core da 2.5 GHz, la RAM, la ROM, insomma una serie di cose che sostanzialmente mi hanno fatto dire ok, voglio testarlo, sulla carta sembra un buon telefono, è anche un rugged e io sostanzialmente quando ho i telefoni in mano tendo a farli cadere, perché no? Proviamolo e vediamo come si comporta. Perché viene venduto come appunto un rugged phone capace di resistere a cadute su superfici dure anche da un metro e mezzo di altezza. purtroppo però come possiamo evincere dal display non siamo stati in grado di superare questo drop test. Io a questo punto passerei all'unboxing, andrei a vedere come ci arriva il prodotto e poi lo scopriamo insieme. Grazie a tutti. Ed è giunto il momento ora di vedere come si comporta. Come avete visto lo sblocco è fulminio, da questo punto di vista non ho nulla da dire. Basta prenderci un pochettino la mano e mettere il dito nella posizione giusta e lui si sbloccherà. E' posizionato come potete vedere al di sotto del tasto blocco e sblocco dello schermo, ma non è obbligatorio sbloccare lo schermo per aprire il telefono. Come avete visto lo schermo era bloccato, basta appoggiare il dito sul sensore di sblocco, una piccola vibrazione ci segnalerà che il telefono è stato sbloccato. Un'altra modalità oltre al codice è quella di sblocco facciale. Ecco come avete visto è riuscito a sbloccarci senza problemi, non è perfetto, bisogna prenderci, non un pochettino la mano, il telefono deve avere una condizione luminosa, favorevole. Il telefono sostanzialmente non è istantaneo come lo sblocco tramite il dito e ovviamente tramite il codice. In questo modo stiamo avendo un pochettino di problemi, ammetto che prima ne ha avuti molti meno. Ecco comunque lo sblocca, non è fulminio come altri telefoni o come altri sblocchi come quello dell'impronta, ma abbiamo anche questa possibilità. Andando avanti con i tasti abbiamo come vi dicevo quello per accendere e spegnere il dispositivo o anche lo schermo, abbiamo i tasti per alzare e abbassare il volume. Spostandoci dall'altro lato il carrellino per le due nano sim, purtroppo con una limitazione solo fino al 4G il processore non gestisce il 5G. Oltre alle due nano sim abbiamo la possibilità di espandere anche la memoria inserendo una scheda SD. La capacità massima di archiviazione esterna è di 512 GB che si andranno ad affiancare alla memoria interna UFS 2.2 da 256 GB. Continuando con i tasti al di sotto abbiamo un ulteriore tasto che ci dà la possibilità di personalizzare tutta una serie di comandi. Io ad esempio ho impostato la pressione di un tasto mi dà la possibilità di aprire la fotocamera, se premo ulteriormente il tasto andrà ad eseguire lo scatto. Chiudendo vi faccio vedere che se premo ad esempio due volte si accende il LED, premendolo ulteriormente due volte lo andiamo a spegnere e ci dà la possibilità immediata di ad esempio se abbiamo bisogno di una luce in quel momento possiamo premere due volte senza dover andare a cercare abbassare la tendina, cercare la torcia eccetera eccetera. Lo trovo abbastanza comodo, visto e considerato che abbiamo già parlato della fotocamera a questo punto è doveroso andare a fare un test. Vi faccio vedere che il punta e scatta è abbastanza veloce, mettiamo a fuoco, lui ogni tanto non è perfetto, ecco ha messo a fuoco, scattiamo, salva la foto non troppo velocemente, devo essere sincero. Ma vi faccio vedere, visto e considerato che abbiamo già aperto la foto, la qualità più o meno è abbastanza buona, ma vi faccio vedere che se andiamo a zoomare qui purtroppo si è introdotto un pezzo di polvere dello sporco, oggettivamente non so cosa si sia introdotto all'interno del sensore della fotocamera. Vedete c'è un'altra macchiettina nera, vi faccio vedere che se scattando da un'altra angolazione non è lo schermo ma è proprio la fotocamera, ecco vedete macchia nera e qui sopra abbiamo una macchiolina di polvere, ora oggettivamente non so cosa sia, però quando l'ho comprato le prime fotografie non presentano questo difetto, adesso invece sia video che foto del sensore principale, perché ricordiamo questo telefono ha tre sensori, il sensore principale da 64 megapixel, il sensore grande angolare da 8 megapixel e l'ultimo sensore è un sensore Sony, devo dire molto buono, da 20 megapixel che ci dà la possibilità di scattare delle foto e dei video notturni. Abbiamo parlato dei sensori, vi faccio vedere, prima di farvi vedere la foto notturna e altro parlo della modalità video, la modalità video ci dà la possibilità di registrare dei video fino a 2k, allora sulla carta ovunque su internet anche all'interno della confezione si legge che il telefono è in grado di scattare dei video, di riprendere dei video fino a 1080, ma qui come potete vedere abbiamo la possibilità di scegliere anche il 2k. Non ci viene data la possibilità di selezionare gli fps quindi 30, 60 o addirittura 120, sì perché questo telefono ci dà la possibilità di riprendere dei video anche fino a 120 fotogrammi al secondo, ma non abbiamo la possibilità di sceglierlo. Per passare alla modalità 120 fotogrammi al secondo dobbiamo andare nelle impostazioni professionali, chiamiamole così, le chiama DPU, selezionare azione lenta e in questo caso saremo in grado con un abbassamento di qualità che si può vedere nettamente e avrete una ripresa in slow motion. Uscendo dalla modalità più abbiamo la possibilità di scattare dei video o delle foto in modalità notturna, come vedete sono in bianco e nero, ora in questo caso siamo abbastanza illuminati quindi non si accende il sensore ad infrarosso, però vi posso assicurare che le foto e i video scattate in questo modo sono oggettivamente affascinanti e sorprenderanno chiunque sono oggettivamente belle. A questo punto io andrei a parlare dello schermo da 6,3 pollici in full hd 1080x2340 con un rapporto a 29, la densità dei pixel è di 395 ppi con un refresh rate da 90 hertz. Ora da questo punto di vista non sono molto convinto che siano proprio 90 hertz, sulla carta sono dichiarati ma oggettivamente qualche piccolo scatto qui e là del pannello si nota. E' paragonabile al mio vecchio smartphone che aveva un pannello onestissimo da 60 fotogrammi al secondo che non banta nulla, ma tra poco lo andremo a prendere perché volevo farvi un paragone anche dal punto di vista dell'apertura delle app. Anzi andiamo a prendere l'altro mio smartphone, chiudiamo le applicazioni così da essere oggettivamente alla pari e facciamo un esempio con come avete visto si aprono insieme, chiudiamo le app, proviamo a fare un'altra apertura. Vedete si apre sostanzialmente nello stesso momento Facebook stessa cosa, apriamo ad esempio Chrome più o meno stessa cosa con Chrome, quindi sostanzialmente abbiamo un telefono che equivale ad un telefono vecchio di tre anni. Ecco la fotocamera in questo caso vince il nostro Dugui ma sostanzialmente siamo nell'80% dei casi nella stessa condizione. Questo è un telefono non top di gamma che è stato rilasciato nel 2019, precisamente ad agosto. In questo caso abbiamo un telefono del 2022, giugno 2022, che onestamente dovrebbe essere superiore, sono due telefoni medio gamma che dovrebbero comportarsi a questo punto in modo diverso. Vi ho fatto vedere prima lo schermo, vi faccio vedere che c'è un secondo schermo posto nella parte posteriore del telefono, uno schermo che a mio avviso è totalmente una trovata pubblicitaria, non è minimamente utilizzabile o meglio lo si può utilizzare, ecco non è neanche reattivissimo, lo si può utilizzare per rispondere alle chiamate, per controllare l'orario, per leggere i messaggi e solo gli sms. Se ad esempio utilizziamo un'app di messaggistica di terze parti in quel caso non saremmo in grado di leggere quei messaggi, quindi è limitato nell'uso. A mio avviso è totalmente inutile, il più delle volte uso sempre, non il più delle volte, costantemente utilizzo quello principale, quindi a mio avviso non è minimamente contemplabile. A questo punto andrei a parlare della batteria, abbiamo una batteria da 6000 mAh che ci dà la possibilità di utilizzare il telefono per circa due giorni, non sono mai riuscito ad andare oltre le 48 ore, un po' perché avevo un problema con Whatsapp, un po' perché comunque gli utilizzi iniziali sono sempre un po' più energivori, ma sostanzialmente nell'uso quotidiano più o meno normale ci dà la possibilità di utilizzarlo per due giorni. Parlando della carica abbiamo la possibilità di ricaricare il nostro smartphone con una presa da 33 W con il cavo USB fornito, cavo e ricaricatore USB forniti in dotazione, 33 W ci danno la possibilità di ricaricarlo da 0 a 100 in circa due ore e abbiamo anche la funzione di ricarica wireless, però in questo caso la ricarica wireless scende ad una potenza di 15 W soltanto. La connettività abbiamo, come vi dicevo, la possibilità di inserire due SIM ma non abbiamo il 5G, sono presenti il GPRS, il Wi-Fi Dual Band 2.4 e 5 GHz, l'NFC, l'USB e anche un USB OTG e il Bluetooth e 5.1 Low Energy, il GPS, il GLONASS, Galileo e Beidou. A questo punto è doveroso parlare e trattare delle sue certificazioni e di come si comporta in termini di resistenza. Per la conclusione del video ho deciso di tornare alla configurazione iniziale per parlarvi di quella che è stata la mia esperienza con questo telefono e raccontarvi quello che è successo. Sostanzialmente vi vado a parlare delle sue certificazioni, lui vanta ben tre certificati, il certificato IP68 che praticamente è la certificazione massima che si possa ottenere per un dispositivo elettronico che dovrebbe proteggersi da infiltrazioni di acqua e infiltrazioni di polvere, il 6 sta per appunto la totale repellenza contro la polvere, mentre l'8 allo stesso modo sta per la totale repellenza per l'acqua, può essere immerso fino a tre metri di profondità senza limiti di tempo. A questa certificazione viene aggiunta un'ulteriore certificazione IP69K che in questo caso va ad implementare quella che è la precedente repellenza all'acqua con un'ulteriore resistenza alle alte pressioni e al vapore acqueo. L'ultima certificazione che è quella che da un lato mi interessava di più è la certificazione militare, la MIL STD 810G. Un telefono con tale certificazione dovrebbe resistere a umidità cadute da almeno 1,20 m, dichiarate da questa certificazione, l'azienda dichiara 1,50 m, di altezza su superfici dure, shock termico quindi temperature alte e basse, la temperatura alta se non erro è fissata più o meno a 55 gradi e questo mi lascia un pochettino perplesso perché ho potuto constatare in questi giorni che se andavo a collegare la presa di alimentazione e quindi andavo a ricaricare la batteria il telefono raggiungeva almeno 45 gradi, quindi se doveste farlo all'aperto d'estate e in questo periodo come potete vedere anche dalla mia condizione si suda parecchio, fa abbastanza caldo, potremmo raggiungere i 50-55 gradi. A quel punto fonderebbe? Non lo so. Resiste al freddo, resiste agli shock, alle cadute, agli urti e proprio sulle cadute voglio un attimino fermarmi perché come potete vedere questo telefono si è frantumato, quella che è stata la mia esperienza ve la racconto senza andare ad omettere o ad aggiungere fatti sostanzialmente ho preso il telefono per vedere se resisteva appunto alle cadute, dall'altezza più o meno dell'ombelico quindi un massimo più o meno un metro di altezza l'ho lasciato cadere, posteriormente non ha avuto problemi quando l'ho girato a faccia in giù l'ho raccolto in questo modo. Oggettivamente sono rimasto un po' scioccato però dovevo ovviamente provare e vedere come si comportava. A quel punto ho alzato la cornetta, ho chiamato il centro assistenza di Amazon non per farmi sostituire il telefono, attenzione non volevo che il telefono mi fosse sostituito o riparato ma volevo capire quella che poteva essere la normale circostanza per un cliente che a quel punto dopo aver comprato un telefono indistruttibile si trovava tra le mani un telefono che si era distrutto oggettivamente quindi cosa ho fatto? Ho chiesto che mi venisse spiegato cosa avrebbe coperto la garanzia di questo dispositivo se sarebbero stati in grado di ripararlo, se l'azienda o cosa Amazon sarebbe stato in grado di fare in queste circostanze quello che ho potuto evincere perché ammetto che è stato complicato mi veniva ogni volta risposto che non potevo accedere alla sostituzione o alla riparazione del prodotto in quanto questo prodotto è un prodotto concesso gratuitamente per la recensione però diciamo dopo diversi tentativi mi è stato detto sostanzialmente che trattandosi di un prodotto accidentale purtroppo tali danni non sono coperti dalla garanzia e che avrei dovuto chiedere direttamente al produttore quali sarebbero state le mie tue vi chiedo scusa se ho cambiato posizione ma purtroppo la fotocamera mi ha abbandonato e mi ha costretto a girare in quadratura sostanzialmente vi stavo dicendo che Amazon ha rimbalzato la palla e ha detto per questa tipologia di cose contattate il produttore e vedete quali garanzie il produttore vi offre in questa circostanza ma sostanzialmente vi dico che non ha senso chiamare il produttore perché all'interno della confezione ci viene data questo cartoncino che ci va ad illustrare quelli che sono i danni coperti dalla garanzia o meglio quelli che sono i danni non coperti dalla garanzia oltre all'ingresso di acqua per l'apertura del carrellino della sim o per l'apertura del vano ricarica sostanzialmente ci sono tutta una serie di cose e ci viene anche detto che se danneggiamo lo schermo se si spacca il vetro purtroppo questo danno non è coperto da garanzia se il telefono si deforma se appunto il vetro si rompe purtroppo dovete sostituirlo dovete pagare qualcuno che ve lo sostituisce e a quel punto dovreste mandarlo a loro perché se lo fate fare da qualcun altro che appunto manometterebbe i sigilli andrebbe ad intervenire sullo schermo perdereste ugualmente di nuovo la garanzia quindi mi lascia veramente perplessa questa cosa perché noi stiamo acquistando un dispositivo rugged che dovrebbe resistere alle cadute dovrebbe resistere a maltrattamenti di ogni genere e oggettivamente non è così perché acquistarlo? io la mia domanda iniziale prima di subire questo danno era vale la pena acquistarlo come dispositivo principale oppure ci dobbiamo accontentare di questo dispositivo affiancandolo ad un altro telefono che oggettivamente non può essere portato sul cantiere non può essere portato in montagna certo un dispositivo che se cade si rompe acquisto questo e lo affianco a quello adesso la domanda da quella si è spostata vale la pena acquistarlo? dal mio punto di vista non ne vale la pena perché abbiamo un telefono che si comporta oggettivamente come si comporta il mio telefono che ha ormai tre anni certo questo telefono ha qualche baghettino dal punto di vista hardware comincia ad avere dei problemi si spegne ogni tanto quindi andava sostituito ma in termini pratici di utilizzo le applicazioni come avete visto si aprono più o meno alla stessa velocità non ha un plus che mi fa dire ok ho acquistato un telefono nuovo che più o meno è resistente se cade davanti ho dei problemi però dal punto di vista software è una scheggia va benissimo vale la pena acquistarlo oggettivamente non è così si rompe non va una scheggia allora dico a quel punto acquisto una cover rugged per quest'altro telefono che ne esistono in commercio di cover rugged ci metto una pellicola di vetro quindi se cade avanti spero si rompa la pellicola se cade posteriormente ho la cover rugged e ho fatto la stessa cosa ho lo stesso telefono sostanzialmente quindi ad oggi mi sento di dire che non ne vale la pena di acquistare questo dispositivo mi dispiace perché aveva un buon potenziale ma pesa tanto non è resistente va più o meno bene non va benissimo quindi si comporta benino nel 2022 non vale la pena di acquistarlo non vale la pena di acquistarlo